Tutto facile per il brasiliano Flavio Saretta. Il volenteroso qualificato spagnolo Bartolomé Salva Vidal, infatti nulla può contro la sapienza del numero 137 del mondo. Il sudamericano, che in passato ha anche occupato posizioni intorno alla cinquantesima del ranking mondiale, si è imposto agevolmente per il 6-1 sui 4, controllando la gara dalle prime alle ultime battute. Il primo set è stato un autentico monologo del tennista di San Paolo, che forte della sua posizione in graduatoria e della sua esperienza, ha sbatacchiato lo spagnolo da una parte e dall'altra del campo, fino al 6-1 finale. La seconda frazione complice anche un piccolo rilassamento del brasiliano e senza dubbio più combattuta. Salva Vidal da fondo a tutte le sue energie, ma Saretta tiene duro e riesce a chiudere il tutto al decimo game, evitando così di impantanarsi in un pericoloso prolungamento che avrebbe potuto sorprendentemente cambiare le sorti del match. Ora il brasiliano attende il vincitore della partita fra Bello che di Mauro, per un ottavo di finale che promette scintille. Grazie. Grazie.